Io ho ascoltato alcuni interventi ma ho soprattutto letto i documenti che ci sono stati mandati, quindi anche se non ho seguito tutto dal pomeriggio, però ho letto anche le storie, alcune le conoscevo già in realtà. Proprio per questo momento ho ripreso una frase che dal mio punto di vista mi piace molto, presa dagli autori di Wikinomics, che dice mentre la vecchia rete era fatta di siti web, di clicco, di occhi puntati sul monitor, la nuova rete è fatta di comunità, di partecipazione, di peering. Perché dico questa frase? Perché essenzialmente da decenni ormai, da un decennio perlomeno, è cambiato il modo di fare rete e anche di sfruttare la rete per un vantaggio anche economico, e quello che fanno le start up innovative e anche quello che fanno le PMI innovative che sono state inserite proprio ultimamente in un decreto e nel nostro ordinamento giuridico. E' proprio l'open software, l'open data, l'open sourcing che può dare una svolta e la sta dando sicuramente una svolta a questo paese, soprattutto perché agisce, ed è stato detto precedentemente, sulla nostra cultura. Quindi fa un tipo di trasformazione culturale che io condivido assolutamente, deve essere la base per poter anche intraprendere quelle dieci azioni che sono inserite nel programma e nel manifesto. Quindi io credo che questo sia un fondamento molto importante. Io per quanto mi riguarda stavo seguendo con molto interesse quello che stava proponendo anche la Commissione europea, quello che stava accadendo in Europa in relazione al mercato unico digitale. Ecco, se si lavora bene su questo tema, io sono certa che tantissime start up italiane e tantissimi modi di fare innovazione in Italia potrebbe certamente cambiare. Non sappiamo tutti quali sono spesso i problemi. Abbiamo il problema dell'IVA non uniforme, abbiamo il problema del servizio postale. Ad esempio, sono andata a prendermi un ultimo dato della Commissione europea, ci dicevano che il 62% delle imprese che cercano di vendere online sostiene che il costo eccessivo della consegna dei pacchi danneggia l'e-commerce. Quindi anche in questo ambito probabilmente la Commissione europea e l'Europa dovranno agire. Penso anche ad esempio alle soluzioni, però spesso le danno direttamente le imprese. Penso a nuovi modi di trasportare anche in maniera ecologica e sostenibile pacchi, post all'interno di una stessa città. Ci sono veramente tantissimi esempi che stanno nascendo. Io a volte, per stare, anch'io stessa, a volte per stare alla novità e per stare al corso dei tempi faccio ultimamente anche un po' di fatica. Magari prima mi era più semplice frequentando anche alcune communities online, ma ora veramente faccio più fatica. Proprio riguardo a questa domanda se Steve Jobs fosse stato italiano, ecco io non lo so, probabilmente ci sono degli Steve Jobs italiani, probabilmente attualmente o non sono stati valorizzati in passato oppure non sono emersi come potevano emergere perché vuoi un sistema economico, politico diverso da quelli degli Stati Uniti, in negativo e in positivo a volte, intendiamoci, probabilmente non ha permesso un'espansione di questo sistema, però tantissime aziende, ricordiamo per esempio l'Olivetti, è stata la più grande azienda tecnologica italiana e questo è il primo esempio che mi è venuto in mente, tantissimi esempi ci sono stati in Italia in passato, tantissime nuove tecnologie sono nati anche da mente italiane, penso anche alla ricerca, al settore della ricerca applicata grazie alle nuove tecnologie che può aumentare le scoperte scientifiche. Ci sono veramente tantissimi ambiti dove l'innovazione potrebbe portare non solo delle novità nelle nostre vite quotidiane, lo sta già facendo in realtà, ma anche nella gestione ordinaria delle nostre economie. Ecco, per esempio io un tema su cui ci siamo molto battuti e ci batteremo sicuramente durante il decreto Investment Compact che riguardava anche per un aspetto le PMI innovative, abbiamo inserito la durata di start-up innovative da 4 a 5 anni, abbiamo anche inserito una certa sburocratizzazione nella costituzione di nuova impresa, adesso si può fare anche con firma digitale, prima non era previsto, questi sono emendamenti di un mio collega del Movimento 5 Stelle che ho sottoscritto, ma c'è anche un settore che a me interessa molto ed è quello del co-working che è l'ultimo anche del manifesto. Noi avevamo presentato un emendamento per dare, per costituire un fondo governativo, un fondo statale a favore di tutte le amministrazioni locali, quindi comunali, per incentivare l'utilizzo di locali o spazi che attualmente non vengono utilizzati. Mi spiego meglio, almeno io avendo un dialogo abbastanza vivo con alcuni imprenditori o con alcune start-up mi dicono sostanzialmente che ci sono tantissimi, lo vediamo in tutte le città, ci sono tantissimi spazi abbandonati, ce ne sono veramente tanti. Questi spazi potrebbero, lo sono in alcune città che potremmo definire illuminate dal punto di vista tecnologico innovativo, utilizzati per dare la possibilità alle start-up e agli imprenditori di mettersi insieme e quindi di elaborare un sistema di co-working, è quello che autonomamente stanno facendo alcuni imprenditori in alcune realtà italiane. Alcuni sono andati anche a visitarli, sono veramente degli incubatori ma anche degli spazi veramente eccelsi. Spesso però molti mi dicono, guarda, ne ho incontrato proprio uno ultimamente, un incubatore proprio qui di Roma, mi diceva noi non abbiamo la banda larga, il discorso che ci si lega a quello che si diceva prima, non abbiamo la banda larga e quindi ci dobbiamo, era proprio a Roma qui, se non sbaglio a Testaccio qui vicino, non abbiamo la banda larga e quindi facciamo spesso molta fatica in una città che è la capitale d'Italia, anche non nel paesino e montagna che spesso citiamo, spesso cito anch'io, ma addirittura anche nella stessa Italia, nella stessa Roma qui. Quindi sicuramente è un qualcosa che va analizzato questo perché nel momento in cui soprattutto in alcune zone del sud Italia manca questa spinta si è costretti a muoversi, a muoversi di alcuni, di qualche chilometro oppure anche di centinaia di chilometri e questo potrebbe essere un problema. Riguardo, poi concludo così possiamo trarre anche le conclusioni, possiamo anche voi trarre le conclusioni, io credo che questi momenti per me sono veramente molto significativi perché essendo insomma il mio gruppo parlamentare da tempo batte proprio su questi temi e all'inizio, almeno io parlo di 10 anni fa, 15 anni fa, quando dicevamo queste cose venivamo visti come dei pazzi, non solo dei pazzi ma delle persone di nicchia, sì vabbè voi pensate ad internet, voi pensate all'innovazione però ci sono altri problemi in Italia, c'è altro da sistemare, cosa vuoi che la casalinga, sempre questa casalinga di Voghera, ne possa capire di internet e cosa possa trarne a suo vantaggio la mitica casalinga di di Voghera. Bene ora, per fortuna io mi sento che questo clima sia un po' cambiato, ora io almeno questo è quello che vivo negli ultimi anni, sento che questa necessità è stata vista anche da altre forze politiche e lo vediamo anche in alcuni miglioramenti che sono stati fatti e non mi sento più diciamo a volte solitari a dover combattere contro i giganti, però dobbiamo capire, questo io lo dico sempre, che la politica deve fare delle scelte, deve fare delle scelte nel senso che deve capire se continuare a investire in un determinato e quindi mettere soldi in un determinato magari settore che ormai si avvia alla conclusione, penso ad alcune fonti fossili, dico faccio sempre questo sparagone, piuttosto che magari investire ed aiutare come già sta facendo magari le piccole start up di imprenditori che si occupano di energie rinnovabili, che si occupano di un altro modo più sostenibile, diverso di fare energia. Questo è soltanto davvero un esempio di delle scelte che noi abbiamo di fronte ogni giorno e delle scelte che facciamo in primis magari andando al supermercato per dire, per scegliere quel prodotto a chilometro zero italiano piuttosto che un prodotto estero che magari ha all'interno delle particolarità che non dovrebbero esserci, ma anche proprio quando si tratta di fare delle scelte di investimenti. I soldi ci sono, ma vanno investiti in maniera corretta e con scelte sagge che ci pongono da qui a dieci anni, non soltanto nell'immediato. Grazie. Mirella Agliuzzi, vorrei solo sapere una cosa, una risposta sì o no. Ottimista o pessimista? Possibilista. No, possibilista.